Ciao bambini, vi ho preparato questa mini lezione per ripassare insieme l'analisi grammaticale e i suoi elementi. Noi fino a questo momento conosciamo l'articolo, il nome, l'aggettivo qualificativo, il verbo, i pronomi personali e le preposizioni. Andiamo però a vederli ad uno ad uno. Partiamo dall'articolo. L'articolo è una parolina breve breve che troviamo solitamente davanti ai nomi comuni. L'articolo può essere di tre tipi, determinativo, indeterminativo e partitivo. L'articolo determinativo è formato da queste paroline, il, lo, la, l con l'apostrofo, i, gli, le. L'articolo indeterminativo invece è formato da queste altre paroline, un, uno, una, un con l'apostrofo. Infine abbiamo l'articolo partitivo, già la parola lo dice, indica una parte di un tutto ed è molto simile ad una preposizione articolata. In particolare le forme con le quali possiamo confonderlo sono del, dello, della, del, con due l'apostrofo, dei, degli, delle. A questo punto potete chiedermi maestra ma come facciamo a riconoscere quando è un articolo partitivo e quando invece è una preposizione articolata? Bene, vi ricordate cosa vi ho insegnato? Di cercare di sostituire sempre queste paroline con un po' di, qualche, alcuni, alcune. Se la sostituzione mi rende la frase sensata vuol dire che sono degli articoli partitivi, indicano cioè una parte, una quantità non precisa, non ben definita. Oltre all'articolo determinativo, oltre agli articoli scusate, abbiamo altre paroline che si chiamano aggettivi qualificativi. Cosa sono gli aggettivi qualificativi? Anche in questo caso la parola ci aiuta. Qualificativo mi dice una qualità, una qualità del nome di una persona, di una cosa o di un animale. Cioè mi dice com'è una persona, un animale, una cosa. La mamma è bella. Com'è la mamma? Bella, bella è un aggettivo qualificativo. Abbiamo studiato e stiamo studiando in questo periodo il verbo, in modo particolare stiamo studiando il modo indicativo. Che cos'è il verbo? Beh, innanzitutto il verbo mi dice un'azione, mi dice quello che si sta facendo in questo momento o in un momento passato o in un momento futuro. Il verbo mi dice un'azione appunto svolta da una persona, da un animale o da una cosa. Lo trovo facilmente perché mi dico voce del verbo e finisce in are, ere, ire. Quando finisce in are è della prima coniugazione, quando finisce in are è della seconda coniugazione, mentre quando finisce in ire è della terza coniugazione. Sappiamo bene bambini che i verbi essere e avere sono due verbi molto particolari, cioè hanno una coniugazione propria. Sono verbi ausiliari che vanno a formare i tempi composti di tutti gli altri verbi e lo abbiamo visto studiando appunto in modo indicativo. Poi abbiamo studiato i pronomi personali proprio agganciandoci con i verbi. I pronomi personali sono delle paroline che stanno al posto del nome. Personali perché indicano delle persone, infatti sono proprio le persone del verbo. Sono sei, tre singolari e tre plurali e sono io, tu, egli, noi, noi, voi, essi. Io è la prima persona singolare, tu è la seconda persona singolare, egli è la terza persona singolare, noi è la prima persona plurale, voi è la seconda persona plurale, essi è la terza persona plurale. Infine abbiamo visto le preposizioni. Anche le preposizioni possono essere di due tipi. Abbiamo la preposizione semplice e la preposizione articolata. Abbiamo studiato la preposizione semplice e abbiamo visto che è formata da queste paroline. Attenzione che le osserviamo bene. Di, a, da, in, con, su, per, tra e fra. La preposizione invece articolata e anche qui il nome ci aiuta a capire che questa preposizione è formata da una preposizione semplice agganciata, cioè unita, ad un articolo determinativo. Avremo così che di più il forma del, a più lo forma allo, da più la forma dalla. Se bambini andate a vedere sul vostro libro di italiano, lingua e linguaggi, andate a trovare la tabella con elencata tutte le preposizioni articolate. Quindi non sbagliate neanche se volete. Infine, ma non è una cosa la cosa meno importante, abbiamo ripassato anche il nome. Cos'è il nome? Il nome è una parola che indica una persona, un animale, una cosa. Cioè tutto quello che ci che ci gira attorno ha un nome. Il nome può essere un nome comune oppure può essere un nome proprio e in questo caso va scritto con la lettera maiuscola. Il nome poi può essere un nome di persona, può essere un nome di cosa oppure un nome di animale. Infine, il nome, possiamo dire del nome anche il genere e il numero. Cioè possiamo dire se è maschile, femminile, singolare o plurale. Abbiamo imparato poi che esistono nomi concreti che riusciamo a percepire con i cinque sensi, possiamo facilmente disegnarli e rappresentarli, ma ci sono anche dei nomi che sono astratti e che possiamo percepirli solo con la nostra mente. Continuiamo il nostro lavoro con un esempio di analisi grammaticale. Qui vi ho preparato una frase. La nonna Clara lava dei vestiti sporchi in lavatrice. Proviamo ad analizzarla insieme. Allora, la che cos'è? La è un articolo determinativo femminile e singolare, perché fa riferimento a nonna. Che cos'è nonna? La posso disegnare, vero? La posso rappresentare? Nonna è un nome comune di persona femminile e singolare. Clara è il suo nome proprio, quindi Clara è il nome proprio di persona femminile e singolare. Lava. Che cos'è lava? Lava, voce del verbo lavare. Are sarà una prima coniugazione. Modo indicativo, è solo quello che abbiamo studiato fino adesso. Tempo presente, perché l'azione la sta facendo adesso. Ed è una terza persona singolare. Dei lava alcuni vestiti. Quindi è un articolo partitivo. Mi dice una quantità di questi vestiti. Alcuni. Un articolo partitivo maschile e plurale, perché si riferisce a vestiti. Vestiti che cos'è? Un nome comune di cosa, maschile e plurale. Come sono questi vestiti? Sono sporchi. Questo è un aggettivo qualificativo maschile e plurale. In, di, a, da, in, vi ricordate? È una preposizione semplice. E la preposizione semplice, bambini, non ha né genere né numero. Lavatrice, invece, è il nome comune di una cosa, di un elettrodomestico. Di cosa? La lavatrice, quindi, è femminile e singolare. Anche per oggi, bambini, ho finito la mia mini-lezione. Spero che vi possa servire per fare i compiti per casa. Ciao e un bacione a tutti! Grazie a tutti!